L'ultima mia amministrazione che abbiamo fatto nel mese di maggio scorso ha avuto proprio questo significato, se vi ricorderete. Quando io ho proprio chiesto, ho aperto a tutti i partiti dicendo sfruttiamo tutte le possibilità che vi sono, vi sono in questo momento assessori regionali, vi sono in questo momento ministri, ebbene io apro a tutti coloro i quali vogliono impegnarsi e io metto a disposizione, il governo e la città lo metto a disposizione per portare i risultati ad agrigento. In questo senso vi sono state forze politiche che hanno aderito, vi sono state forze politiche che per le ragioni politiche di quel tempo si sono tirate fuori. Questa mia volontà in questi anni di grandissima difficoltà sul piano amministrativo ed economico, ne abbiamo parlato prima, ma anche sul piano politico, perché sono stati anni in cui vi è stato un capovolgimento sul piano politico, prima nazionale e poi regionale. E allora i rischi che abbiamo corso sono stati sempre in questi anni di dovere anche pagare quanto succedeva su un piano politico nazionale e regionale, pagarlo anche per la mia città. E in questo senso quando io ho aperto sempre a tutti, è stato sempre per dire io vi coinvolgo a tutti, io vi chiamo a tutti per vedere che cosa volete fare per agrigento. Il governo delle responsabilità. Il governo delle responsabilità e questo l'ho fatto sempre in linea, quindi superando qualunque polemica che qualcuno vorrebbe fare, sempre in linea con quella impostazione principale che io ho assunto nell'impegno con i miei concittadini, perché io non è che sono andato a fare, facevo la città sopra i partiti e poi non dialogavo con nessuno. La città sopra i partiti, qua potevamo fare le cose più belle, ma poi non parlando con nessuno, non andando ogni giorno a bussare nelle porte di Palermo e di Roma che cosa facevamo. Allora, avremmo perso opportunità e tempo, avremmo perso qualunque occasione. Oggi quanto stiamo riuscendo a portare alla città dimostra invece che in questo mare tempestoso di questi anni sul piano politico, amministrativo ed economico, siamo riusciti ad aprire a tutti, a fare superare anche a tutti quelli che avevano le diffidenze, le preoccupazioni, poi la preoccupazione di tutti. Zambuto può crescere, Zambuto può diventare un pericolo sul piano politico per chi oggi è parlamentare, e allora sono tutti preoccupati, ma stiano sereni, ma si godano la vita, ma facciano qualcosa per agrigento. Io sono stato abituato sempre su un piano politico, così come anche su un piano personale, a non avere avuto regalato nulla e alle cose essermele sempre conquistate. Se uno è bravo e lavora si conquista i risultati, se uno, poi è chiaro ci vuole anche la dose della provvidenza per quanto mi riguarda, per chi crede, per chi non crede della sorte, dico ma questo ho vissuto sempre con grande serenità. ha vissuto sempre con chi vive ogni giorno con la serenità della precarietà dell'essere umano, ma con una grande fede e con un grande vissuto religioso. E allora dicevo la prossima aggiunta. È chiaro, e io di questo ne ho parlato con i miei assessori proprio nei giorni scorsi, abbiamo fatto una bellissima riflessione tutti insieme, tutti gli uomini che io ho avuto in questi anni. veramente sono stati uomini che si sono prestati, che hanno dato il massimo, che hanno voluto dare il loro contributo alla città. È chiaro che tutto questo va governato dentro un processo che è quello del quadro politico nazionale, regionale. Ripeto, per non rimanere isolati rispetto a quello che succede fuori di Agrigento. Perché se no noi qua avremmo potuto fare chiaramente qualunque cosa che però sarebbe stato avulso o fuori dai contesti nazionali e regionali. E allora invece dicevo anche le conversazioni avute con i miei assessori che sul profilo tecnico, con un grande profilo tecnico, si sono misurati in questi anni e che hanno compreso insieme con me che dobbiamo dare una fase nuova, che vanno valorizzate le nuove forze che oggi si devono mettere in gioco, in campo per continuare in questa nostra azione per la nostra città. E questo lo abbiamo fatto e lo faremo serenamente, lo faremo sempre con chi ci vorrà stare. Ed è chiaro che il segnale, per quanto mi riguarda, il segnale dato della nuova rete idrica, il finanziamento della nuova rete idrica nella città di Agrigento, segna un rapporto forte, importante della nostra città con il governo della regione siciliana, che è stato ad oggi l'interlocutore istituzionale che ha riconosciuto alla nostra città 50 miliardi e le vecchie lire per quanto riguarda la rete idrica e in più i finanziamenti di cui parlavo per quanto riguarda il centro storico. Ripeto, questo per quanto mi riguarda non vuole escludere altri. Io sono sempre pronto ad avere e a ricevere per la mia città segnali e soprattutto finanziamenti e risorse, e soprattutto avere altri che si impegnino ai confronti della mia città. La sua è un'allusione diretta al popolo della libertà e ai popolari Italia Domani, che è in consiglio comunale adesso sono l'opposizione, l'opposizione a cui lei si riferiva poc'anzi per effetto di tale stravolgimento politico, sempre tempestoso, per usare il suo stesso termine che si è susseguito nel corso del tempo. Peraltro la prossima giunta ad Agrigento esporterà il modello regionale, quindi fuori popolo della libertà e popolari Italia Domani, e le prove tecniche di tale nuova giunta comunale di Agrigento sarebbe stata l'elezione del presidente del consiglio comunale di Agrigento, il cosiddetto cartello Marchetta. Peraltro alcuni esponenti a seguito della elezione di Alfano, ritengono alcuni esponenti del PDL, in particolare ritengono che lei ormai sia un sindaco di minoranza. Non mi pare proprio questo, tenuto conto che in consiglio comunale, se dovessimo fare i conti con i cartelli di cui vogliono fare i conti chi oggi fa l'opposizione, che poi mi dovrebbe spiegare, fa l'opposizione in consiglio su alcune vicende, però poi sta dentro l'aggiunta. Dicevo, non mi pare proprio, perché proprio ieri c'è un documento firmato da 16 consiglieri comunali, ma questo, ecco io non mi vado a infilare all'interno di queste diatribe di pochissimo valore, soprattutto perché riportano la città indietro, e io non mi faccio riportare con le langette dell'orologio indietro rispetto agli schieramenti, alle appartenenze, e quindi ai blocchi che sono state quelle cause che hanno portato la nostra città e hanno portato chi ha amministrato la nostra città a non occuparsi dei problemi, per cui ci siamo trovati oggi a dover, nel 2010, a dover avere ancora i problemi dell'acqua, i problemi del finanziamento, del centro storico, i problemi di un mancato sviluppo, per non parlare, non abbiamo parlato, i problemi della rete fognaria e del depuratore, cioè tutti i problemi storici, tutti i problemi di una città che si deve chiamare di una città civile, non erano mai stati affrontati nella loro drammaticità, perché l'unico problema che c'era in questa città è stato sapere con chi si è. Io sono contizio e allora sono contro di Caio, e allora facciamo questa guerra dei muscoli, l'uno contro l'altro, tutto questo ha provocato nella nostra città, prima sono state le guerre all'interno della democrazia cristiana, nei tempi, poi con il pentapartito, poi all'interno del pentapartito, le guerre di potere erano solo e soltanto guerre di potere, guerre di potere che hanno utilizzato il bilancio del comune di Agrigento per finanziare le correnti, per accrescere il consenso elettorale, e che poi hanno portato a una condizione drammatica dal punto di vista finanziario, come io mi sono trovato a dovere amministrare. Siccome io a questo gioco non riporto la città indietro, non riporto la città indietro agli anni del, prima dicevo, dell'ADC, del pentapartito, poi agli anni dello scontro, e anche su questo voglio essere estremamente chiaro, quando mi si attacca dicendo Arnone, Arnone è con lui, Arnone lo appoggia, amici cari, Arnone è stato ed è un soggetto politico votato da questa città, dal 93 in poi. Ebbene, dal 93 in poi si è sostituito a quei blocchi di cui parlavamo prima, gli schieramenti di chi era a favore o contro di Arnone. Questo ha fatto sì che anche lì benissero, si realizzassero carriere politiche, ma che poi non andassero ad affrontare i problemi della città. Io Arnone l'ho chiamato come ho chiamato qualunque altro soggetto politico, a dire che cosa si è in grado di fare per questa città, misuriamoci sui problemi, non sui pregiudizi, perché io non ho pregiudizi nei confronti di alcuno quando mi misuro rispetto alla soluzione che ho da dare ai problemi. La città è soprattutto quando sono chiamato in nome del popolo, a rappresentare il popolo, perché al popolo non interessa nulla, né di Tizio, né di Caio, né di Filano, né di Martino. Alla città interessa, il cittadino interessa avere i servizi. Quando il cittadino mi viene a trovare, mi chiede i servizi, mi chiede il motivo per cui non ha la luce nella sua strada, quando non ha il quartiere asfaltato, quando non ha il centro storico. Mi diceva l'arcivesco qualche giorno fa che alcune persone gli domandavano gli interventi sul centro storico. E io gli dicevo, eccellenza, avremmo bisogno, e veramente, poi abbiamo avuto il segnale della provvidenza, dicevo, con il finanziamento della rete idrica, per dire non possiamo portare le lancette dell'orologio indietro negli scontri, dei traschieramenti, negli scontri personali che poi hanno portato l'attenzione solo a sapere con chi si stava, con chi si stava e a non occuparsi dei problemi. Bene, si conclude così l'odierna puntata di tema. Io ringrazio per essere stato ospite degli studi di Teleacras il sindaco di Agrigento Marco Zambuto. Grazie a voi. Ringrazio anche voi gentili telespettatori per la cortese. Attenzione, arrivederci ad una prossima puntata di tema. Grazie. Grazie. Grazie.